Il mio vecchio mi diceva sempre è meglio non credere mai di aver toccato il fondo. Fidati, diceva. Puoi sempre andare un po' più giù. Corri! L'oro della Royal Merchant. È qui. Mezzo miliardo. John B, siamo dei latitanti in un paese straniero. Promettimi che non farai niente di stupido. Beh, Sarah Cameron, io faccio sempre cose stupide senza rendermene conto. Tieneti forte, ok? Word è ancora lì fuori. Potrei riabilitare il mio nome. Questa storia non può finire qui. E se credi che esista una sola cosa che non farei per tenerci sempre uno, allora non hai capito proprio niente. Sarah! D'ora in poi sono il capo. Guido io. Non so guidare col cambio manuale. Ricevuto. John B non è il solo ad essere stato tradito da Word. Credo che tu sappia ciò che voglio. Il tesoro appartiene ai Puxa. Dobbiamo trovarlo prima noi. Bugiti, wugiti. Bugiti, wugiti! Yeah! Questa è una mappa dell'intera isola. John B è tornato. Lo sai, o lui o me. Ho capito. Avete fiffo? No, no. Sì, non ho fatto. Qual property è un'efa? No, no, no. Vero a dirmelo che siete troppo fifoni per farlo. Grazie a tutti